I fedeli telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa in vista della messa in onda della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality show made in Honduras verrà condotto nuovamente dall'inarrestabile Alessia Marcuzzi, la quale verrà affiancata in studio da due new entry femminili e da un inviato speciale che ha coperto il ruolo di naufrago nella tredicesima edizione del forum. La pagina Instagram del reality ha confermato che l'ex Jeffina Marina Larosa era ufficialmente nel cast dei naufraghi della nuova isola.l'isola14. Tutte le novità del reality show honduregno nel corso delle ultime ore sono emerse in rete le prime novità apportate dall'imminente nuova edizione del reality show, l'Isola dei Famosi. Ebbene sì, sul profilo ufficiale Instagram del noto format di Canale 5 sono stati pubblicati alcuni post che svelano i primi segreti del programma Made in Honduras. Sulla sa menzionata pagina social, la produzione dell'Isola dei Famosi, il reality che nel 2019 giunge alla sua quattordicesima edizione consecutiva, ha fatto sapere che ad affiancare in studio Alessia Marcuzzi, alla conduzione del format, vi saranno due donne, Alba Parietti ed Alba Deusanio, le quali copriranno entrambe il ruolo di opinionista del programma del viscione. Punto sono felice di presentarvi le mie donne dell'Isola dei Famosi 2019, Alba e D'Alba, e con me facciamo le tre A, che poi a A fa anche un po' ridere, video. Queste ultime sono le dichiarazioni rilasciate per iscritto da Alessia Marcuzzi nel riposto condivisi dalla pagina Instagram dell'Isola14. Diverse ore fa, la pagina dell'Isola ha reso noto il volto della prima naufraga che concorrerà insieme ad altri alla vittoria del monte premi finale del gioco dell'Hondura sebbene, l'ex ceffina, Marina La Rosa, è in procinto di partire per l'Honduras, per coprire il ruolo di naufraga del formato dei famosi, video virgola nella giornata di venerdì 11 gennaio. L'Isola dei Famosi ha aggiunto che l'ex naufrago, concorrente all'Isola dei Famosi 2018 insieme a Francesco Monte ed altri, coprirà per la prima volta il ruolo di inviato speciale del gioco honduregno, una notizia quest'ultima che ha letteralmente sorpreso molti internauti. Naufrago, conduttore di Saranno Isolani, adesso inviato dell'Isola dei Famosi benvenuto a bordo, Filippo Nardi, è il messaggio lanciato dalla produzione del noto reality show di Canale 5. Isolani, adesso inviato dell'Isola dei Famosi benvenuto a bordo, Filippo Nardi, è il messaggio lanciato dalla produzione dell'Isola dei Famosi benvenuti. Isolani, adesso inviato dell'Isola dei Famosi benvenuto a bordo, Filippo Nardi, è il messaggio lanciato dalla produzione dell'Isola dei Famosi benvenuti.